Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippa View. Oggi siamo qui per ricensire gli stiracchioni. Eccoli qui, ce li avete consigliati un po' di tempo fa e veramente in tantissimi. In particolare questi stiracchioni ce li hanno consigliati Maria Francesca 5, Emanuela Capogna, Martina Cawai, Giada Flora, Mohamed Abidi El Wild e David Amati. Quindi, grazie a tutti voi per il vostro consiglio e vi abbiamo accontentati con questi stiracchioni. Vado a dare un bel bacione. Vai, dallo di nuovo. Bravissimo. Allora, quindi come sempre guardiamo la bustina per prima. Questa. Questa qua. Questa si vuole bellissimo. Bravo Pippo. Allora, la marca è Jav Toys. Sì, allora, qua. Sì, la marca, come ho detto già prima Pippo, è la Jav Toys. Poi qua c'è scritta stiracchioni, con questo sfondo tutto verde e giallo, bellissimo. E questi due bambini che giocano. Sì, che tirano appunto questi stiracchioni. Inoltre c'è scritto che cambiano colore, sono tantissimi. Poi stirali, collezionali tutti, sempre come sempre. Sì, sempre come sempre, fantastico. Allora, qua sempre la stessa cosa e il prezzo è di 2,50 euro. Ok, quindi sono a forma di animale, ecco. Vai Pippo, apri. Questa me la devo salvare per forza. Anzi, non so dove vorrei salvarmela. Vai Pippo, apri. C'è l'apertura, ma io una no. Sì, c'è l'apertura semplificata. Però io una, voglio salvare una. Allora, dacci prima il booklet. Il booklet va in incattonato, eh. No! Non è un booklet. Quindi il booklet è in questa confezioncina, in questa plastica. Ma non è un booklet, sembra quelli che devi fare i disegni. Sì, da colorare forse. Allora, apriamo. Allora. Ah sì, è come un mini posterino da colorare. Guardiamo un po'. Infatti, da colorare. Ah, c'è l'immagine del bimbo che tira lo stiracchione. Con qua vari tipi di stiracchioni. E poi qua, aspetta. Qua un altro disegno. Che bello! Ebbè, è un booklet alternativo, ecco. Vai, vediamo qual è ben trovato. Due. Wow, ce ne sono due! No, ma è più di due! Quanti ce ne sono? Wow! Noi ce ne aspettavamo uno, perché non c'è nemmeno scritto nella bustina quanti ce ne sono. Finiti? Ce n'è ancora? No. Ok. Guardate! Wow, quindi ce ne sono tre in ogni... Cioè, scusate, tre in ogni bustina. Guardate tutte ranocchie. Allora, ben trovato. Aspetta, facciamole vedere. Allora, ben trovato tre ranocchie bellissime. A me piacciono tantissimo le rane. Allora, quindi, una fucsia, una azzurra e una di questo... Sì, nella telecamera sembra verde. Comunque è giallino, giallo fluo, ecco. Eccolo qui. Una. Poi, aspetta, facciamo vedere più da vicino. Questa qua, azzurra blu. Bella, bellissima. E poi queste qua. Scusate, questa qui. Eh, però non sappiamo se cambiano colore... Cioè, come fanno a cambiare colore, ecco. Non c'è scritto nella bustina. Perché in realtà dovrebbero cambiare l'unco in acqua pedo e con l'acqua calda. Ah, sì? Però non c'è nemmeno il booklet che lo dice. Cioè, qua c'è scritto cambiano colore. Però qua c'è solo da colorare. Boh, magari dopo proviamo a prendere due ciotoline. Una con l'acqua calda e una con l'acqua fredda. E vediamo dove cambiano colore, ecco. Allora, vai, apri. Qui se ne trovano tre in ogni bustina, però dello stesso tipo. Ad esempio, tre rane. Così come abbiamo trovato noi. Vai, Pippo. Guarda, è un dinosauro. Vediamo. Allora, qua c'è sempre il solito booklet che non stiamo ad aprire. Lucertola. Ah, tre lucertoline. Che carino. I colori sono sempre gli stessi. Aspettate, togliamo le ranocchie. Allora, i colori sono sempre gli stessi, come potete vedere. Quindi abbiamo trovato questa qui gialloflua. Va, va, va. Tu vuoi... Vuoi... Vuoi sapere che mia sorella le odia? Sì, bravo. Odio le lucertole. Invece Pippo le adora. Quindi abbiamo trovato. Perfetto. Abbiamo trovato le lucertole per Pippo e le ranocchie per me. Poi, quindi abbiamo visto quella gialla. Poi questa qui. Azzurra blu. E poi questa qui. Fucsia bellissima. Ok, quindi proviamo a stirarle. Ecco, vai Pippo. Senza spaccarle. Sì, diciamo che non... Non si allungano tantissimo. Va, va, va. Va, va. Va, va. Quando io no prendo ste bacinelle. Adesso. Però è infatti... Non... Perché qua nella bustina c'è scritto stirali. E fa vedere il bambino che li allunga così. Adesso proviamo con la ranocchia. Sì, è un po' così. Non è che si allungano tantissimo. Vale la lucertola? Sì, la lucertola un po' di più perché naturalmente avendo la coda sembra che si allunga di più. Beh dai, però sono carine. Sono morbide. Come potete vedere. Si schiacciano facilmente. Quindi sono morbide. Sono... Si allungano facilmente. Sono colorate benissimo. Hanno belli colori, quindi... Ma magari ne compreremo altre degli stessi occhioni. Sì, magari ne compreremo altre perché veramente sono bellissime. Poi 2,50 euro se ne trovano tre all'interno. Sì, l'unica cosa è che magari nel pacchetto non c'era scritto che se ne trovano tre e non c'è scritto nemmeno come cambiano colore. Per adesso prendiamo due piccole bacinelle, una con acqua fredda e un'altra con l'acqua calda e vediamo dove cambiano colore. Abbiamo preso le due forciortole. Bravo, Pippa. Abbiamo riempito questa ciotola azzurra con l'acqua fredda. Infatti come potete vedere c'è anche... Aspetta, è rimasto anche qualche pezzo di ghiaccio perché abbiamo aggiunto due o tre cupetti di ghiaccio in modo che fosse veramente fredda fredda. E poi questa qui invece l'abbiamo fatta scaldare, quindi è calda. Allora, proviamo. Mettiamo una ranocchia nell'acqua calda. Non si è umido. Vediamo un po'. E non fa niente. Appunto. Poi prendiamo questa qui... Anzi. Questa qui... No, io devo decidere. Nell'acqua fredda. Teniamole qua. Sì, questa qua sta cambiando colore nell'acqua fredda. Bella! Ok, lasciala là. Tienila là. Ok, poi... Bella! Adesso proviamo a mettere questa qui fucsia qua nell'acqua calda. No, no. Vediamo se cambia colore anche nell'acqua calda. No, allora vuol dire che cambiano colore solo nell'acqua fredda. Perché come potete vedere... Voglio anche colore. Non cambia colore. Ah, mi sto usciendo le mani. Vole! Adesso vale, guardate! Sì, allora quindi cambiano colore solo nell'acqua fredda. Quindi togliamo questa qui, lasciamola lì, lasciamola l'acqua fredda là. Ma non vuole. Allora, no, no, questo qui... Sì, vedete anche la ranocchia che prima non si era colorata, non aveva cambiato colore nell'acqua calda. Adesso le zampette un po' verdi. Quindi mettiamole tutte qua. Facciamole fare a tutti il bagnetto, anche quella lì. Ok, nell'acqua gelata. Ma questa vuole essere già... Allora, questa qui, iniziamo a far vedere questa qui. Wow, stiamo facendo acqua dappertutto. Allora, questa qui che era azzurra è diventata viola. Bellissima questa! Fantastica! Magari per farla ritornare poi va nell'acqua azzurra. Ah, ok! Allora, praticamente, per farli cambiare colore... Vabbè, guarda, è un altro violo! Sì! Allora, lasciarli ancora lì. Per far cambiare colore a queste stiracchioni bisogna mettere nell'acqua fredda. Magari aggiungete anche qualche cubetto di ghiaccio, in modo che sia veramente fredda fredda. Poi, per farle tornare al colore originale, le mettete nell'acqua calda. Ok. Quindi adesso tutti nell'acqua fredda. Guardate! Ad esempio la ranocchia... Ok, no, aspetta, teniamole tutte qua. Aspetta. Ma le sto quasi diventando colore. Allora, vedi, questa vale è viola. Allora, questa qui, anche la ranocchia è diventata viola. Non ci sarà stata quella azzurra. E se la lasciamo lì, come potete vedere, ridiventa azzurra blu. Ok, lasciamola lì. Ma il giallo è verde! Poi il giallo diventa... Oh, che mamma mia! Il giallo diventa verde in un modo fantastico. Bellissimo! Ok. E poi il rosa... Sì, il rosa diventa più viola, ecco. Ok, quindi anche questa lucertolina qua, che era azzurra, è diventata viola. Adesso la rimettiamo qua. No, Fili, lasciale lì. No, ma mi lascia. Ok, questa qui era lì, lasciamola qui. Poi quella lì. E poi c'è ancora questa qui, sei che appunto era fucsia. Quindi quelle fucse diventano semplicemente un po' più violette, ecco. Così. E poi... No, guardate che bella sta rana verde. E adesso è diventata un po' gialla. Bellissima! Questa blu, guarda, la voglio assolutamente mettere qui. Perché voglio farli mettere di nuovo viola. No, veramente sono fantastici questi stiracchioni. Ecco qui gli stiracchioni che abbiamo trovato. Eccoli qui, tutti gli nostri stiracchioni, bellissimi, veramente ve li stra stra consigliamo, perché sono molto divertenti e molto fatti bene. Prima volta c'è un caos, è vero. Sì, abbiamo tutto il tavolo pieno d'acqua. Ok, quindi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete non iscritti al nostro canale, ecco, per tanti attivi o condivete questo video per i vostri amici, lasciateci un bel commento. Bravissima, Pippa! E quindi, saluti da... Di chi la è? Pippa e più, ci vediamo in prossimo video. Ciao!